Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, eccoci qui alla video preview direttamente dall'EFA di Berlino. Stiamo dando un'occhiata allo Zenfone 2 Deluxe. Deluxe perché cambia il back panel, cambia la back cover ispirata agli elementi e ai cristalli della natura, o almeno così ci hanno detto durante la conferenza. Dando un'occhiata invece direttamente allo smartphone monta Android Lollipop e per quanto riguarda le specifiche Asus ha cercato davvero di superarsi. 4 GB di RAM che vanno a supportare un processore Intel Super Quad Core. Per quanto riguarda la memoria interna abbiamo 128 GB di ROM e molto interessante la fotocamera frontale da 13 megapixel con un sensore HDR, una tecnologia HDR migliorata del bene il 400%. 5 megapixel, la fotocamera frontale perdonatemi, 13 megapixel quella posteriore con doppio flash LED. Migliorata anche la tecnologia di ricarica che promette una ricarica del 60% in meno di 40 minuti. Per quanto riguarda il display è un IPS full HD da 5,5 pollici e la densità di pixel è di più di 400 ppi, infatti la risoluzione sembra molto molto interessante. Bene amici TecnoAndroid, non possiamo che darvi appuntamento alla recensione completa che riusciremo a svolgere una volta che avremo il dispositivo fra le mani. Per questa preview è tutto, grazie a tutti amici di averci seguito.